Rieperta la strada per Campo Imperatore, ricoperta nei giorni scorsi da quasi due metri di neve. Strada Facendo, progetto educativo, ha coinvolto alcune classi di Civite e Laroveto. Magdiano, controllo elettronico della velocità al via il 27 maggio. Centro di ascolto intitolato a Gaia di Orio, inaugurato in via Treves ad Avezzano. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Il consigliere delegato alla viabilità per Luigi del Signore, in accordo con il dirigente del settore, l'ingegner Nicolino D'Amico, comunica che tutta la viabilità provinciale nel comprensorio del Gran Sasso è di nuovo percorribile. In particolare è stata riaperta la carrabile che conduce dalla zona dei ruderi di Sant'Egidio fino al piazzale di Campo Imperatore, ricoperta nei giorni scorsi da copiose nevicate, con accumuli importanti che in alcuni tratti hanno raggiunto i due metri di altezza. Tali precipitazioni hanno reso necessario l'utilizzo della nuova turbina che la provincia impiega nel comprensorio di Campo Imperatore. Si raccomanda di procedere su questa strada con la massima cautela, in modo particolare sugli ultimi tornanti che conducono all'arrivo della funivia per la presenza di muri di neve ai lati della strada. Il consigliere delegato alla viabilità del Signore plaude al lavoro svolto degli addetti, anche in presenza di condizioni gravose, per consentire a turisti e operatori di svolgere tutte le attività che questo magnifico luogo consente. Nello stesso periodo dello scorso anno, dichiare il Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, con il nostro lavoro abbiamo permesso alla Carovana del Giro d'Italia di arrivare in questi luoghi, dimostrando professionalità e responsabilità di un ente che per il territorio e le municipalità rappresenta un punto di riferimento ormai imprescindibile. Gianmarco De Vincentis, membro del Consiglio Direttivo di Confagricoltura, l'Aquila interviene in ordine all'anomalo andamento climatico che creerà non pochi problemi al settore dell'agricoltura. Quest'anno, afferma, sembrava che la primavera fosse arrivata in anticipo. L'inverno mite e siccitoso ha spinto gli agricoltori ad anticipare le semine, già dal mese di marzo, nelle patate, i primi tre pianti di radicchio, finocchio e insalate. Gli agricoltori sono consapevoli che fino a fine marzo-aprile ci sono ritorni di freddo che danneggiano i frutteti in fiori e i vigneti, ma mai hanno assistito nel mese di maggio a piogge così abbondanti e soprattutto al calo delle temperature che da oltre 20 giorni si aggira intorno a 0 gradi. Specifica che i prodotti nei campi hanno avuto un arresto della crescita e la tanta acqua di giorno e le giolate notturne stanno stressando le culture. Si aspetta pazientemente l'arrivo del caldo, quindi? Intanto da almeno 15 giorni non è stato possibile fare le semine programmate e questo farà slittare il raccolto dei prodotti da fine luglio a dopo il 15 di agosto. Molte varietà di insalate rischiano di essere danneggiate dal caldo che farà sviluppare malattie come la virosi delle verdure e la temibile peronospora nelle patate. Abbiamo paura che dopo un'ultima gelata col primo caldo si incominceranno a fare i primi conti dei danni subiti e sarà dura perché difficilmente i frutti della nostra terra possono resistere a questi sbalzi di temperatura e all'umidità che sta danneggiando le piante della radice. Fino a qualche anno fa molti ortaggi venivano assicurati, una parte delle spese veniva rimborsata dalla GEA attraverso il Piano Nazionale per le Calamità Naturali. Ultimamente però il meccanismo del rimborso si è inceppato e gli aiuti per le calamità del 2015-2016 sono stati pagati e non a tutti solo nel 2018. Ci sono aziende che aspettano ancora ed hanno fatto causa all'organismo pagatore. Non essendoci più contributi diretti, solo le polizze assicurative possono salvare le aziende dal tracollo finanziario per effetto delle calamità naturali. Strada facendo si intitola così il progetto che vi sono coinvolti gli alunni delle classi terza, quarta e quinta nella scuola primaria Roberto Ripandelli di Civitella Ruvetto. Insieme alle loro insegnanti, Maria Teresa Alfano, Maria Grecia Fasciani, Daniela Mariani, Patrizia Pampana e Tiziana Rubeis. Ad aprire il progetto finalizzato ad educare le corrette norme di comportamento stradale e all'acquisizione di una maggiore sensibilità civica, due carabinieri della stazione di Civitella Ruvetto, Alessandro Cipollone ed Ettore Tullio. I militari hanno tenuto ai bambini presenti un'interessante lezione incentrata sui comportamenti stradali che interessano proprio i più piccoli in qualità di pedoni e ciclisti. Hanno poi risposto alle tante domande che sono arrivate dagli alunni pronti ad imparare i comportamenti coscienti e responsabili da tenere ogni giorno sulla strada anche quando saranno più grandi. Al termine dell'incontro, al quale i bambini hanno preso parte con grande entusiasmo e coinvolgimento, le insegnanti hanno ringraziato i carabinieri per la loro professionalità e disponibilità. La Federazione Lavoratori della Conoscenza, Cigere dell'Aquila, esprime la propria indignazione per i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della professoressa palermitana Rosa Maria Dell'Aria, colpevole di aver svolto il suo lavoro promuovendo in alunni e alunne l'esercizio del pensiero critico. Questo provvedimento ci preoccupano, spiegano in una nota, perché è una chiara manifestazione di quanto sia a rischio la democrazia nel nostro paese. La scuola esprime ed esercita libertà democratiche che credevamo di non dover più difendere. La vicenda della professoressa Dell'Aria colpisce al cuore la libertà di insegnamento e si inserisce al pieno titolo in un clima di odio e di repressione che come sindacato che crede nei valori costituzionali non intendiamo accettare. La FLC Cigere dell'Aquila si unisce per cui il coro di richieste al ministro Bussetti affinché intervenga per la sospensione della sanzione ed invita tutti i lavoratori e le lavoratrici della conoscenza a manifestare il proprio dissenso verso un ulteriore attacco alla scuola pubblica colpita nel suo mandato più sentito, formare consapevolmente per dettato costituzionale cittadini e cittadine attive. La necessità di far quadrare i conti per i mancati trasferimenti dallo Stato sta costringendo diverse amministrazioni comunali a trovare nuove fonti di finanziamento. La più facile è rappresentata dai sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali che penalizzano migliaia di automobilisti. Ancora non si placano le polemiche per le stangate del T-Rex di Avezzano e le proteste per gli autovelox predisposti dai comuni di Tagliacozzo, Morino e Capistrello che si è accudato ultimo in ordine di tempo anche il comune di Madiano De Marsi. Proprio giorni fa ha ufficializzato la decisione di avviare il controllo elettronico della velocità sulle strade ricadenti nel territorio di propria competenza a partire dal giorno 27 maggio prossimo. Questa è la comunicazione. È in dettore di questa amministrazione tutelare tutti gli utenti della strada in via prioritaria le cosiddette categorie deboli, quali ciclisti, pedoni, anziani, bambini e diversamente abili, dichiara l'assessore e la polizia locale. Domenico Cucchiarelli. Con l'attivazione dei controlli sulla velocità, auspichiamo la sensibile diminuzione degli elementi di rischio nella circolazione, obiettivo che questa amministrazione ha inteso da sempre perseguire. I cittadini hanno segnalato nel tempo e continuano a porre in evidenza situazioni di rischio che non potevano essere tenute nella giusta considerazione, particolari nel centro abitato e nelle strade con notevole flusso veicolare. Le infrazioni al codice della strada verranno accertate mediante dispositivo elettronico bidirezionale, depitamente omologato e conforme per caratteristiche e prescrizioni alle norme vigenti. L'allevamento elettronico della velocità potrà essere effettuato su tutte le strade ricatenti nel territorio comunale ed i servizi saranno predisposti anche seguito dell'attenta valutazione a cura della polizia locale delle segnalazioni di criticità dei cittadini. È stato inaugurato nei giorni scorsi in Via Treves ad Avezzano il centro di ascolto giovane titolato la memoria di Gaia di Orio. Ma vediamo il servizio. Il volto e l'animo segnati dal dolore. Uno sguardo alla tragedia che ha segnato la sua esistenza, ma soprattutto la forza di andare avanti per aiutare e sostenere i giovani che potrebbero cadere nella depressione come la sua adorata figliola Gaia. Questo è lo stato d'animo che abbiamo colto oggi nel professor Ferdinando Di Orio nel corso della cerimonia di inaugurazione del centro di ascolto giovane Avezzano, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Avezzano, dall'ASLA Avezzano sul Monalacuila, istituzioni scolastiche di volontariato al servizio del benessere dei giovani di Avezzano. La struttura, ubicata in via Treves, è stata messa a disposizione dall'amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito dall'associazione di volontariato Veronica Gaia Di Orio, figliola del professor Ferdinando, per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile in forza di un protocollo di intesa sottoscritto insieme con l'amministrazione comunale di Avezzano e l'ASLA Avezzano sul Monalacuila. È destinata a diventare un luogo di accoglienza per tutti i giovani avezzanesi che manifestano problemi relazionali e comportamentali. Una struttura completamente gratuita al servizio dei giovani, dove operano specialisti e volontari. I locali sono stati benedetti dal vescovo di Marsi, Monsignor Pietro Santoro, alla presenza di rappresentanti politici comunali, in attesa di conoscere il proprio futuro in senno alla nuova giunta. Ci riferiamo a Diride Cosimati, Lino Cipolloni e Leonardo Cascere, il dirigente comunale Maria Laura Ottavi, gli esponenti scolastici e gli insegnanti di diverse istituzioni cittadine, il responsabile del progetto Ascolto Gioni di Avezzano, il professor Ferdinando Di Orio, sia il vescovo Monsignor Santoro che l'ex rettore dell'Università dell'Aquila, hanno messo in risalto l'importanza di questo luogo di aggregazione, dove i giovani avranno l'opportunità di trovare persone disponibili e preparate per ascoltare e possibilmente contribuire a risolvere i loro problemi. Se saremo in grado di salvare anche uno solo di loro, ma mi auguro molti di più, ha detto il professor Di Orio, il nostro impegno non sarà stato vano. Il vescovo Monsignor Santoro, dopo aver messo in risalto l'importanza di questa iniziativa, ha confermato che la Chiesa di Marsi è sempre pronta e disponibile a sostenere coloro che mettono a disposizione il loro impegno e la loro professionalità per aiutare i giovani che soffrono di problemi relazionali e comportamentali. Ascoltiamo cosa ci ha dichiarato il professor Ferdinando Di Orio. Professor Di Orio, un momento importante proprio in vista del futuro che aspetta i giovani? Tutto nasce dalle esperienze personali che andiamo tutti quanti verificando di giorno in giorno. Io poi sono stato anche colpito personalmente, nel mio affetto più grande, con la perdita di mia figlia e noi dobbiamo cercare invece di fare queste attività da volontari per salvare tutti i giovani che possono cadere in pensieri negativi, abbandonarsi alla depressione, alla visione negativa della vita. Dobbiamo fare di tutto per cercare di far capire quanto sia importante il benessere, quanto sia importante la vita vissuta con leggerezza. Questo purtroppo nei giovani adesso attualmente non è esattamente così. Abbiamo forme depressive molto serie, percentuali che sono altrettanto alte, siamo tutti intorno al 6-7%, 7-8% secondo le collettività e abbiamo anche purtroppo una percentuale che si innalza anche per quanto riguarda gli effetti letali di queste erosioni, cioè i suicidi. Quindi per fare tutto questo dobbiamo impegnarci come un solo uomo, si direbbe, per portare queste risposte. Noi abbiamo avuto una fortuna che nella nostra volontà di impegnarci al servizio degli altri, perché tutto questo, come lei saprà, è tutto di carattere volontario, non c'è nulla che venga retribuito da parte dei giovani. In questa volontà abbiamo incontrato persone molto importanti, di collaboratori importanti, abbiamo trovato un'amministrazione comunale di Avezzano che ci ha dato una struttura importante come questa e ha creduto nel nostro progetto fin dall'inizio. Abbiamo un ottimo rapporto con l'ASL, ma soprattutto abbiamo un rapporto ancora migliore con le istituzioni scolastiche, che stanno veramente collaborando in un modo egregio. Io devo dire che tutto questo che stiamo facendo e di cui parleremo successivamente non si poteva realizzare in nessun altro modo se non attraverso l'impegno delle istituzioni scolastiche con cui abbiamo collaborato in questi mesi. Un genitore che viene incolpito negli effetti più cari, come ha ricordato lei, si pone degli interrogativi? Sì, si ripone, si ripone, vengono fuori complessi di colpa, vengono fuori perché quel giorno invece che andare a fare una ricerca all'estero non sono stato con mia figlia, a sentirla, a ascoltarla. Sì, si pone degli interrogativi. Ecco, però vedete spesso la famiglia non è in grado di assolvere a questi compiti, questa è la verità. E quindi secondo me ci vogliono delle equippe specializzate, perché la famiglia in quanto tale spesso non riesce a capire i disagi dei propri figli, addirittura non ha neanche tempo per occuparsi, accade frequentemente. E quindi dobbiamo essere noi a cercare di trovare queste difficoltà, questi disagi, e cercare di indicare la soluzione per ne uscirne fuori. In questo contesto, e concludiamo, questa iniziativa credo che rappresenta un punto di aggregazione importante per tantissimi giovani. Sì, mi dico una cosa di più, dottore, questa è un'iniziativa che si sta già segnalando a livello nazionale, perché questo modello che io ho pensato un anno fa, questo di un centro d'ascolto intermedio fra l'ASL e i giovani che hanno bisogno, cioè perché io sono convinto che non tutto va medicalizzato, che ci sono molti giovani che invece con il dialogo, con il confronto, possono avere risposte più importanti che non quelli che danno i farmaci. Ecco, noi, devo dire che da questo punto di vista, in questo progetto, abbiamo visto molte prospettive del futuro. E anche a livello nazionale ci stanno dando grande ascolto. Io andrò a parlare a luglio al congresso di psichiatria di Reggio Calabria e parlerò proprio di questo centro d'ascolto di Avezzano. Abbiamo sottomesso due articoli scientifici in cui si parla del centro d'ascolto di Avezzano all'ivista internazionale e quindi spero che questo modello, anche a livello nazionale e internazionale, diventi un punto di riferimento. La Cina di Avezzano comunica che nell'ambito del programma delle attività culturali e turistiche sta organizzando, in collaborazione con una agenzia di viaggi, un tour di tre giorni a Siena, Chianciano, Val d'Orcia, nei giorni 14, 15 e 16 giugno prossimi. In sintesi, il pacchetto turistico prevede il viaggio in Pullman, Gran Turismo, loggio in un hotel 4 stelle in pensione completa, munito di piscina, campo da calcetto, da tennis, campo di bocce. Il programma ha anche visite guidate a Siena, Montepulciano, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Montalcino e Cetona. I partecipanti all'iniziativa potranno usufruire ai della spa e delle terme sensoriali. Le serate poi verranno trascorse in albergo con musica d'alivivo e giochi di società. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 30 maggio prossimo e verranno prese in considerazione in ordine cronologico, confermate fino ad esaurimento posti disponibili. La Fiesa regionale d'Abruzzo e l'assopanificatori Confesercenti e l'Istituto Tecnico per il Turismo Argoli, in collaborazione con la città di Tagliacozzo, organizzano il convegno di studi alimentazione alla riscoperta del nostro buon pane, il pane e i cereali, nel contesto alimentare del turismo enogastronomico, che si terrà il lunedì 20 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella splendida cornice del Teatro Italia di Tagliacozzo. L'obiettivo degli organizzatori è educare alla conoscenza, soprattutto i giovani in età scolare, perché il sapere agevola lo stare bene e allontana stili di vita non corretti. Con questo convegno si intendono confutare false notizie e non corrette informazioni in campo nutrizionale, soprattutto quelle riferite al pane e ai cereali, anche in un contesto di tipicità e tradizioni locali, perché il pane è uno degli alimenti più antichi dell'uomo. Se si esclude la frutta e la verdura, mangiata direttamente così come è prodotta, e la carne cotta, il pane è il primo alimento ottenuto da un determinato e specifico procedimento. Importantissima è la fase poi della cottura per avere alla fine il principale elemento dell'alimentazione umana in tutto il mondo e in tutte le epoche. Insieme alla pasta, al riso e agli altri cereali, il pane è il principale fornitore di carboidrati necessari per l'organismo umano. Al convegno di lunedì prossimo parteciperanno, fra gli altri, Vincislao Ruccolo, Vicepresidente Nazionale Assopanificatori Confesercenti, Vincenzo Giovagnorio, Sindaco della città di Tegliacozzo, Antonio Pacella, Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Consulente del CONI e dell'Arma dei Carabinieri, Medico Settore Tecnico FIGICI, Gaetano Pergamo, Direttore Fiesa Nazionale, Mauro Febbo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo. In tre ore di presenza sulla piattaforma informatica sono arrivate 133 stanze di imprese abruzzesi. Il clamoroso risultato del bando che finanza gli investimenti delle aziende ricadenti nei comuni del cratere sismico, pubblicato il 15 maggio scorso, chiuso nella tarda martinata dello stesso giorno. Un grande risultato esordisce così l'assessore allo sviluppo economico, Mauro Febbo, che mette a risalto la volontà di ripresa e riscatto degli imprenditori abruzzesi alle prese con le conseguenze del Sisma 2016. Il bando autorizzato dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione, può contare su una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, derivanti da contributi del Governo e ripartiti tra le quattro regioni interessate agli eventi sismici di tre anni fa. Gli uffici del Dipartimento dello Sviluppo Economico, spiega Febbo, hanno pubblicato il bando nella mattina del 15 maggio e solo poche ore dopo hanno dovuto chiuderlo, avendo superato ampiamente il numero delle aziende finanziabili. Un boom che conferma la bontà della scelta della Giunta regionale che in poche settimane ha dato la possibilità alle imprese coinvolte nel sisma del 2016 di avere a disposizione lo strumento giusto per finanziare investimenti in conto capitale e far ripartire l'economia di una parte importante dell'Abruzzo. È un impegno politico, sottolinea invece l'assessore Guido Liris, che come Governo regionale ci siamo dati e abbiamo intenzione di portare avanti, non solo sul fronte della ricostruzione materiale di case e edifici pubblici, ma soprattutto sul fronte economico, ben consci che la ricostruzione del tessuto produttivo toccato dal sisma è opera complessa. Nelle prossime settimane di ufficio avvieranno l'istruttoria per verificare i contenuti delle istanze pervenute e stilare l'elenco delle aziende beneficiarie. La Commissione Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio regionale Abruzzo, ha assunto a maggioranza durante la seduta il testo di base di un progetto di legge che intende incidere sul rapporto tra professionisti e pubblica amministrazione. In particolare, il testo vuole tutelare il lavoro svolto dai professionisti mediante prestazioni eseguite sulla base di stanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese e prevede misure volte al contrasto dell'evasione. I commissari hanno analizzato i progetti di legge sul tema presentati da maggioranza e opposizione ed hanno deciso di convergere sul testo unico che accoglie lo spirito di tutte le proposte normative. La Commissione si dà appuntamento a giovedì 23 maggio per l'audizione dei soggetti interessati alla materia oggetto del testo di legge. E circa 4.000 persone, tra atleti provenienti da tutta Italia, staff, compagnatori, invaderanno fino al 26 maggio la città dell'Aquila in occasione dei campionati nazionali universitari. La manifestazione sportiva ha preso il via con la disciplina dell'epugilato alla scuola media Patini. È la prima volta che all'interno dei campionati nazionali universitari si svolgono anche competizioni per i paratleti. A tal proposito è stato organizzato anche il convegno sport e disabilità all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila, lunedì 20 maggio. Ha spiegato Francesco Bizzarri, presidente del Centro Universitario Sportivo dell'Aquila e responsabile dell'organizzazione della rassegna sportiva nazionale. Soll'Auto tutte le strutture ricettive del capoluogo e del comprensorio aquilano fino al Rocca di Mezzo e Fonte Cerreto ha aggiunto Bizzarri. Intanto se insediata la commissione crediti, tutti gli atleti si devono registrare presso la struttura e l'ingresso degli impianti sportivi di Centicolella. Nessuna sottrazione di fondi ma semplicemente garantire al servizio emergenze di protezione civile della nostra regione di poter disporre in tempo utile delle risorse finanziarie per le attività di antincendio boschivo. E questo è il commento del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Sant'Angelo, alle dichiarazioni rilasciate da un consigliere della minoranza riferite alla legge licenziata martedì scorso dall'Assemblea regionale che finanzia le attività di antincendio boschivo. È paradossale che un provvedimento urgente votato all'unanimità possa sollevare critiche dopo la sua approvazione. Sappiamo tutti quanto siano utili le piante in generale e il sistema bosco in particolare che con l'apparato radicale evita dilavamenti, smottamenti, erosioni e frane ha proseguito Sant'Angelo. Finalizzare una parte delle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico all'anti incendio boschivi ha una sua logica perché tutelare il patrimonio arboreo è la prima garanzia di tutela dei territori. Dunque, il tentativo di travisare la bontà della scelta operata va respinto senza indugio al mittente. La verità è un'altra, ha concluso Sant'Angelo. Con la legge approvata sono stati spostati e messe a disposizione risorse come lo scorso anno e dello stesso capitolo di bilancio necessarie per finanziare le attività di antincendio boschivo con la differenza che l'anno scorso lo stanziamento avvenne a luglio inoltrato in piena stagione calda dove più di frequenti possono avvenire incendi mentre oggi si è provveduto in tempo utile per dare la possibilità alla competente struttura regionale della protezione civile di espletare le complesse procedure di gare per il noleggio del mezzo aereo e per la convenzione con i vigili del fuoco. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima di saluti, ma come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Vezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie anche oggi per averci seguito e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.